Continuano le attività formative presso il CREA a Fondi. La nuova iniziativa di formazione si svolgerà presso Villa Cantarano. L'ultima iniziativa di formazione messa in campo dal CREA consiste in un master di secondo livello in ambito di territorio, beni culturali e nuove tecnologie, sistemi di comunicazione per lo sviluppo di idee imprenditoriali. Nello specifico il titolo del master sarà Sviluppo, impresa, sistemi, territorio, tecnologie e cultura. Questo corso di formazione nasce dalla collaborazione tra la Regione Lazio, il coordinamento CREA e l'Università della Tuscia. Questa nuova e importante iniziativa di alta formazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Fondi, nonché dell'amministrazione provinciale di Latina, del MOF e della Banca Popolare di Fondi. Il master prevede un'innovativa modalità di formazione rispetto alle tradizionali impostazioni didattiche. L'obiettivo infatti è coinvolgere gli studenti rendendoli protagonisti del proprio futuro, permettendo loro di acquisire le competenze necessarie per progettare e sviluppare un'idea di impresa nel campo delle tecnologie applicate ai beni culturali, grazie ad un percorso specifico di accompagnamento che vedrà coinvolti, oltre i docenti dell'Università della Tuscia, esperti nelle varie discipline e collaboratori di Bic Lazio. Il CREA fa sapere che le iscrizioni sono aperte fino al 19 novembre e le lezioni inizieranno nel mese di dicembre 2010. Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.creia.it o contattare la sete del CREA di Fondi in via Cavour 46.